Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 7 luglio. Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede. D'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue e di poco spessore, preferite quelle spontanee e franchi come voi. Toro, con Nettuno Amico potresti aderire a un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potresti anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba, con cui condividere intense emozioni. Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la luna in pesci, non lasciatevi coinvolgere da un giovane di famiglia in discussioni e litigi. Non potete permettergli di condizionare le vostre scelte, prendete le distanze e proseguite per la vostra strada. Cancro, la luna amica nel segno dei pesci, vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Usciti all'aria aperta con amici e familiari, avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia. Leone, con l'arrivo della luna in ariete, stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo, godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e amore. Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini, la luna in pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchier d'acqua. Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no e quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza un comodo punto debole. In realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente, sorprenderete l'avversario. Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha più esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni, voi non ascoltate nessuno. Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi senza però strafare. Con Giove Amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati. Capricorno, con la luna in pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertirete qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose, riuscirete però ad arginare disordine e confusione. Aquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchie ruggini e immotivate gelosie? Avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti, gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo. Pesci, riesaminando il passato, vi accorgerete di aver rivializzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore di oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti a una data da stabilire.